Va bene, riprendiamo la vettura di New 2, titolo che, insomma, un po' come il primo New, non è assolutamente un cappolavoro, almeno per quello che ho visto finora, ma comunque svolge, o almeno per il momento, la sua funzione principale, che è quella di un gioco, cioè di comunque divertirti, perché effettivamente, diciamo, non mi spendo usti. Non mi spendo, diciamo, anche particolarmente costrante il gioco, non lo so, io comunque lo trovo comunque veloce e divertente. Il titolo, tra l'altro, che, questo mi ero dimenticato di dirlo, è il titolo sviluppato dal team ninja, che sono quelli di Ninja Gaiden, se non sbaglio. Che, qua, qua noi dobbiamo buttare giù, praticamente. Dobbiamo, perché è tutto un gioco dove praticamente tu butti giù cose per... Eh, butti giù, cassa di acqua per andare a liberare piano piano, eh, tutti, tutti i percorsi. Tipo, qui, io qua avevo buttato giù dell'acqua, allora quest'acqua mi permette di passare qua e raccogliere questa cosa. Ora, questi due qui, questi due invambiti qua li avevamo già eliminati, quindi sinceramente non ne vedo... Non mi sembra il caso, insomma, di... Non mi sembra il caso di dover ritornarci. Sì, qui la parete è comunque distrutta. Ok, va bene, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo fatto un po' di cose. Eh, lì non possiamo andare perché ci sono delle fiamme. E probabilmente... Dovremmo buttare giù qui un barilotto di acqua che ci permette di passare. Credo, ma secondo me questo livello qua è da ragionare al contrario, cioè... salire più in alto possibile, buttare giù tutte le bocce d'acqua possibili. Oh, è buona, eh? Sbloccare i vari livelli, tipo qui secondo me potremmo scendere... Sbloccare i vari livelli, tipo qui secondo me potremmo scendere... Asi a lui perfetto è importante... Non siamo, non sei... Di fatto? No, è il fatto... è in vivo, non hai sentito? Non è lei che c'è? Non è lei che quello che c'è? Non mi sembra? È così, non è lei che? Qui abbiamo quello che rompe un po' le balle, sinceramente. No, eh? No, no, morire con lui no. Per piacere. No, aspetta, 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 aspetta! Merda, ma di che... di solito quando mi avvicinavo... Ok, ho spento un coso rio. Di solito quando mi avvicinavo non le sparava per perci, vabbè. Che elisirche possono essere raccolti, da quello che vi sembra di capire, ma forse più avanti potranno anche essere acquistati. Adesso non mi ricordo giusto se col primo era possibile farlo, questa cosa, oppure no. Ok. Andiamo lì. Allora, un attimo, un'ottima cosa si alza. Ormai guardo, sto iniziando. Stiamo piano a... A capire... Ho nessun nemico che... Qui abbiamo sbloccato qualcosa. Attualmente quella lì è la chiave della grande fucina. Allora, qua ci sono delle scale. Qui si può scendere. Però non so più come si può salire poi. Mentre... Ok, le scale... Ci portano al santuario... Che ci permette di aprire la porta. Perfetto. Allora, potremmo approfittare... Allora, potremmo approfittare... Per andare a esplorare questa zona magari... Con più serenità... Qui... Ok, questo qua l'avevamo già visto. Qui c'era il nemico. E qui... Qua ritorniamo indietro. E allora, a questo punto, visto che abbiamo le cure termali... Anzi, no, ho fatto un attimo. Qui. Non è che dobbiamo buttarci... Dobbiamo buttarci nel calderone. Allora, vediamo intanto questo. Perché poi abbiamo utilizzato la chiave della grande fucina. Però c'è un posto, è tutto una cazzata. È tutto una cazzata, raga. È tutto una cazzata, perché adesso non avendo... Essendo vicino il santuario... Sì, adesso, qua c'è qualcuno. Sì, adesso, qua c'è qualcuno. Sì, adesso, qua c'è qualcuno. Ehi, ho capito, sto facendo la... Ah, no. Che per l'altro... Che per l'altro se... Se quando non... Eh, vedete, qua è il problema, io riparto da qua Io riparto da qua Quindi Però, avendo aperto la porta Quattro accidentemente 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 allora noi non siamo morti quindi le nostre anime ancora dovrebbero essere lì questo utilizziamo questo lo utilizziamo per incontrare il boss sicuramente ci farà comodo a sto punto qua sotto noi andiamo a esplorare perché noi dobbiamo riprenderci le nostre cose no 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 Sì! Ah, no, non era. Chi è morto? Preghiamo? Che all'estero ragazzo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho perso il... come si dice? Il... il controllo. Ho perso il controllo. Ho perso il controllo. Ho perso il controllo. Ho perso il controllo. Ho perso. Ho perso il controllo. 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 Qu persona, ho perso il controllo. Ora farò che darà bene Oh Molho Oh, la magia No, devo fare l'attacco quello bastardo Bastardo, è morto Perchè sono morto ragazzi, scusate Perchè sono morto? Perchè ho preso il tornado Allora, scusate un attimo, fatemi capire se posso acquistare almeno... Ehm... E di zero Ok Vedete col riso mi danno... Perchè... Se non ho altro Allora, sorgente termine Ehm... 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 Ah ma quando è ferito così Io posso attaccarlo Quando lui è ferito viene colpito Da questi Dai pilastri dell'acqua Ma ora no Ancora Merda no lo sono distratto Ci riproviamo? E' uno scontro anche divertente Porca puttana Quanto rompi il coglione Merda E' uno scontro E' uno scontro Grazie a tutti. 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 Dai, dai che ce la facciamo. Non è stato... Devo dire che verso la fine ho iniziato a battermi il cuore. Verso la fine. Perché si lascerà la missione a terminare il punto di partenza? No. Ma io non capisco neanche il senso di questa cosa perché tanto indietro non ci fa tornare, forse è semplicemente per un discorso di raccogliere gli oggetti, forse. Oh, aspetta un attimo. Quindi puoi recuperare il chi oppure schivare con questa spada? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No. Oh, no. Quella donna non era affatto un samurai, ma che diavolo era? Invece di carri delle mosse era sicuramente qualcuno che vorresti al tuo fianco. Possiamo comunque dire di versi di sotto la richiesta del maestro dosano, ma nel caso di fermarci dobbiamo accappararci altre pietre dello spirito e dovremo stare molto attenti. Allora, questo è il presentimento che troveremo altri guai sul nostro cammino. Conto subito. Conto subito. Livello 15. Ah, questo è bello. Mizziga. Armonissimo. Allora. Questo è qua livello 9. Armonissimo. Questo è molto bello. Insieme hanno aggiunto il dojo, la via del guerriero, novizio, ho ricevuto i seguenti titoli. Va bene. Va bene. Il dojo sinceramente non c'è tutta questa voglia di farlo. Qui abbiamo un po' di miss fincine. 21. 20. Sarebbe da fare questa qua che è la missione difficoltà 20. Però penso che la faremo nel prossimo video. Magari nel prossimo video facciamo due missioni secondarie e poi andiamo avanti con la storia principale. Vi invito come sempre a supportare il canale con un po' di iscrizione e a presto. Ciao.